Mamma, ma riesci a guadagnarci qualcosa? Oddio, intanto il lavoro pagato lo trovo, eh? Tipo vitrine, serrande... Però fortunatamente non mi devo pagare un affitto. Sai che mi sembra in Brasile? Le chiese pagano quelli come te per fargli dei murales. Chi è che me l'aveva detta sta cosa? Nessuno, Nadia. È una delle tue cazzate. Senti, mentre io e Fabio andiamo da quella parte a comprare un regalo, perché tu non vai dall'altra parte a comprare un fuo? Te lo sei scordata? No, non me lo sono scordata per niente. Solo che mi sono detta, ma cosa regalo a ste ragazze? Hanno tutto. Tutto. Tutte cose materiali. Allora sapete che cosa ho preparato io con queste mie manine? Cosa? Ho fatto degli acchiappasogni. Oh, wow, un regalone. Le brule faranno salti di gioia. Vabbè, la trovo un'idea carina, vai. Ma perché tu sei carino? Ma quando mi stai simpatico, ti offro il pranzo. No, 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 non ho fame. Tu parla per te. Qui dietro a due passi c'è il ristorante cinese dove lavoro. Ma quando mi ricapita di avere mio figlio e il suo fidanzato tutti per me, dai, andiamo, eh, Ros? No, no, non si pranzano al cinese. Al cinese si va soltanto strafatti e ubriachi. Ma è dura, le ore li possiamo mangiare, dai. Vabbè, io non vengo. Scusa, andiamo lì, prendiamo una cosa. No, andate voi. Io vado a comprare questo regalo, così me lo sono tolto dalle palle e poi sono libero. Ciao. Vabbè, non ti preoccupare, guarda. Luna in cancro, pesantissimo.